L'applicazione di Black Traction e ATT per aumentare, rinnovare o mantenere l'aderenza delle gomme di moto e scooter è facile e veloce e va fatta a pennello sulla gomma pulita e possibilmente asciutta e va steso come se si dipendesse la gomma senza tirare troppo la stesura e senza che rimanga eccessivamente bagnata all'esterno. Il tempo per il completo assorbimento è variabile, conseguentemente al grado di invecchiamento più è vecchia più sarà lento e in base alla quantità di silicio contenuta nella mescola, più c'è silicio più lento è l'assorbimento. Mediamente ad una buona temperatura ambiente l'assorbimento si completa in circa mezz'ora o un'ora, ma è consigliato lasciare assorbire i prodotti anche 7-8 ore per ottenere un assorbimento più profondo e una più lunga durata d'effetto, variabile tra i 3 e i 6 mesi. Se le gomme sono senza cerchi e fabbricate da più di 5 anni, si consiglia l'applicazione sia all'interno che all'esterno. Effettuare l'applicazione sia dall'interno che dall'esterno produce un risultato migliore e più costante nel tempo. Il prodotto è nero, per cui si consiglia di proteggere l'abbigliamento e la pavimentazione se è delicata. E se sporcate i cerchi, non è un problema, ma pulite subito con un panno. Si raccomanda comunque di non utilizzare moto e scooter prima che la gomma abbia terminato l'assorbimento e sia asciutta il tatto, perché potrebbe essere scivolosa. Se dopo 7-8 ore non è ancora asciutta, significa che avete applicato prodotti in eccesso che potete togliere con un panno perché non verrebbe assorbito. L'effetto decade lentamente e gradatamente. È rinnovabile fino a quando non sarà necessario sostituire la gomma perché è consumata. Quando l'effetto di Black Traction e ATT termina, l'aderenza non è peggiore rispetto a prima che venissero applicati i prodotti. Se è necessario è meglio proteggere la pavimentazione perché il prodotto è nero e macchia. Se invece sporcate il cerchio, è sufficiente pulire subito con un panno. Black Traction e ATT non contengono corrosivi e non rovinano la struttura interna del pneumatico. Sono prodotti italiani che si sono evoluti nelle competizioni di auto e moto, dalle caratteristiche uniche e prevetate da Black Traction che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Non contengono corrosivi e non possono danneggiare la carcassa del pneumatico. Li puoi acquistare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa ma non li trovi su piattaforme come Amazon. Grazie per la visione!